Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito Hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Proseguono gli interrogatori degli indagati nell'ambito dell'operazione della DDA che nei giorni scorsi ha portato alla firma di 11 ordinanze di custodia cautelare per presunti intrecci tra criminalità e pubblica amministrazione al comune di Pago Vallo Lauro. Dopo l'ex sindaco Corciono e Luigi Vitale, quest'ultimo ritenuto un esponente del clan Cava, gli unici ad essere in carcere, sono state ascoltate quattro delle nove persone che sono agli arresti domiciliari. Sono stati ascoltati Vincenzo Grasso che secondo l'accusa sarebbe l'uomo di fiducia di Vitale. Il 36enne disoccupato ha respinto le accuse nei suoi confronti di estorsione dichiarando che Vitale gli commissionava dei lavori da svolgere nei campi. L'ingegnere del comune di Pago, Antonio Rega, il quale durante l'interrogatorio durato due ore, ha fornito chiarimenti circa gli incarichi ricoperti in comune, dimostrando attraverso una documentazione di non aver mai svolto l'incarico di dirigente dell'ufficio tecnico perché inquadrato come aiutante dello staff del sindaco Corcione. Hanno respinto ogni accusa, anche l'ex vicesindaco Andrea Moroso, il vigile urbano Carmine Bossone. Al termine degli interrogatori, per tutti sono stati confermati gli arresti domiciliari. Domani saranno ascoltati altri cinque indagati. Intanto tutti gli avvocati hanno già presentato i ricorsi al riesame per i propri assistiti. La decisione del Tribunale è attesa tra Natale e Capodanno.